numero 5 bellissime scarpe da principessa delle nevi realizzate in pvc di alta qualità morbide e comode da indossare senza chiusura il tacco varia dai 3 ai 3 centimetri e mezzo dipende dalla taglia un regalo perfetto per le bambine che amano sentirsi delle piccole principesse disponibili nei colori blu e argento dalla taglia 24 alla 33 acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 4 ogni bambina ama indossare un paio di scarpe da principessa con queste scarpette glitterate la tua bambina diventerà una vera principessa delle fiabe sono dotate di tacco basso una fibbia e una fascia elastica per facilitare la calzata il cinturino è regolabile vestibilità normale disponibili nei colori argento rosa e celeste e nelle taglie dalla 27 alla 37 idea regalo originale in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 3 scarpe gioco con tacco basso per piccole principesse vestibilità normale queste meravigliose scarpette glitterate sono disponibili nei colori argento rosa e blu e in diverse misure dalla taglia 24 alla 36 idea regalo originale per ogni occasione se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 2 scarpe da gioco con tacco basso prodotto ufficiale disney frozen disponibile in vari modelli queste splendide scarpette hanno una chiusura regolabile i vari disegni dei personaggi anna ed elsa sono glitterati il tacco misura 3 centimetri e mezzo queste scarpe grazie al loro tacco basso faranno sentire ogni bambina come una giovane donna disponibili nel colore celeste e in diverse taglie dalla 25 alla 34 ottimo articolo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 bellissime ballerine per bambine con strass luccicanti all'esterno ideali per giocare la tua bambina si sentirà una piccola principessa le scarpe sono disponibili dal numero 22 al 36 e nei colori rosa celeste e argento idea regalo originale trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video regalo